Poco più di sei mesi per passare da queste dichiarazioni Sono venuto qua per far capire alla città che noi in Serie A ci vogliamo andare, ok? Perché io nella vita voglio solo che migliorare, non voglio peggiorare e se c'è un'occasione nella vita per sfruttarla, la sfrutto come un carro armato A queste Sapevo che era una stagione particolare, onestamente sapevo pure che potevamo trovare dei momenti negativi come questi e ci prendiamo le responsabilità e andiamo avanti perché non è che siamo retrocessi, non siamo all'ultima spiaggia ci sono tanti mesi davanti e cerchiamo di invertire la rotta Nella metamorfosi del Bari c'è anche quella del suo direttore sportivo Ciro Polito diventato in meno di due anni un simbolo della rinascita l'uomo capace di rilevare la squadra dalle ceneri del fallimento sportivo griffato a Uteri Romairone di gran lunga la peggior gestione tecnica dell'era dell'Aurentis in bianco rosso e trasformare quella rosa infarcita di giocatori inadatti a campionati di vertice nonostante ricchi contratti in un gruppo capace di sfiorare la doppia scalata di categoria in meno di 24 mesi partendo dalla Serie C e arrivando fino alla finale playoff per la Serie A a giugno del 2023 il gradimento di Bari per Polito era alle stelle praticamente un plebiscito e quella conferenza stampa del 17 maggio 2023 prima che i playoff per la A avessero inizio era perfetta sintesi delle ragioni per le quali Polito aveva fatto innamorare Bari un dirigente appassionato a tratti passionario, competente, capace di individuare talenti nelle categorie inferiori vedi Caprile per citarne uno e incarnare più ruoli in uno con una società geograficamente distante con la sua sede fisica dal capologo pugliese Polito aveva saputo al suo arrivo mettere tanta polvere sotto il tappeto trasformando insieme a staff, squadra e dirigenza un gruppo che aveva rischiato di ridurre ai minimi storici il rapporto di amore tra piazza e calcio giocato in 60.000 presenti sugli spalti per la finale playoff con il Cagliari sei mesi dopo quella partita è cambiato il mondo del Bari che galleggia poco al di sopra della zona playout e ha salutato Michele Mignani per sostituirlo con Pasquale Marino ma senza trarre al momento benefici e di Polito non più eroe di una città ma in prima linea sul banco degli imputati per aver allestito una rosa che non regge il paragone con la scorsa annata e ricca di giocatori per dirla con le parole del DS che non mostrano fame a tratti svuotati di certo al momento incapaci di reagire da gruppo alle difficoltà le ombre riguardano tutti anche lo stesso direttore sportivo e la missione di responsabilità post lecco seppur tardiva sa di presa di coscienza rispetto al pensiero di tre mesi prima quando lo stesso Polito parlava di squadra sulla carta più forte della scorsa stagione che quella non sia la verità del campo ora l'ha riconosciuto anche lui che avrà tanto lavoro da fare per recuperare credito in una piazza che l'aveva eletto appunto di riferimento che avrà tanto lavoro da fare per recuperare credito in una piazza